coccodrilli buongiorno buona domenica oggi una giornata speciale quindi mi sto facendo in quattro anzi ci stiamo facendo in quattro di prima mattina e ci saranno delle sorprese intanto un po di spoiler oggi 61 anni di matrimonio di nonna maria e nonno faustino e ne vedrete delle belle sicuramente ragazzi guardate che figata buongiorno come si è svegliata bene sei pronta per questa giornata tanto eh filiberto ha dato la goccia per stare nicoletta li abbiamo invitati potevamo invitare e ora li chiamola oh allora qui a pranzo com'è e ora vediamo dimmi come è bene bene oggi è una bella giornata piove va bene c'è un sole dentro vero ti sei messa tutta a puntino mo partimo eh mi raccomando loro non sanno niente ma andremo a pranzo all'osteria dei ricordi e mangiare i cappelletti super top e l'altra parte della sorpresa non posso dirla nemmeno a voi perchè vedrete quello che sarà quindi state attenti oh no ma c'hai spontanei mini auguri auguri di che? del matrimonio del cazzo nooo auguri nooo ma dove andrà dove andrà come? sempre uguale lui eh comunque coccodrilli eccoci qua coccodrilli bam 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 io sono pronto mamma no come al solito ragazzi guardate che spettacolo il pulmino abbiamo fatto già tutto il video c'è giuseppe ciao ah giù giù vai eccoci bacio 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 vai bacione eccoci evviva i sposi evviva mamma 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 free mamma mamma ma mamma mamma free mamma my mamma viva i sposi mamma mamma ria amen Eccolo, arrivi a Roma, arrivi a Carapigliere, sento no, chi è questo, oh no, chi è, evviva gli sposi, fa un sorriso o no, ora quanto è contento il coccodrillo, nonna sei contenta, dove andremo, dove andremo, che ne so, quando ha sposato Maria, era minorenne Maria, metofilo, siete conto sul fior della gioventù, dove mi ha portato, dove mi ha portato, a San Damiano, dove, vi siete, dopo 61 anni, dopo 61 anni, viene a San Damiano, eccolo, si sono sposati qua i coccodrilloni, adesso dove andiamo Faustino, questo lo conosco, listeria dei ricordi, sei contento? Adesso si magna, eh, eh, che? Ringraziamento speciale va anche a Giuseppe, Andrea, eccoli, per il pulmino, grazie, grazie mille, numeri uno, ci riservono le macchine top, guardate il loro Instagram, ecco è arrivato anche lui, sei carico? Grande, passo, doppio, triplo, nuovo, vecchio, ti piace il pulmino? Valla a vedere, valla a vedere, valla a vedere, dai, la chiudi, la chiudi, la chiudi dopo, saluta a sti signori, ciao, va a vedere il pulmino, com'è, com'è sto pulmino, è venuto apposta, eh? Bello, bello, ascolta, ma tu hai mangiato? No, puoi venire a pranzo con noi? Eh? Sei contento che vieni a pranzo? Eccoci qua a pranzo, gli sposi, eccoli, attenti al padrone armato, donna Marisa, contenta? Evviva gli sposi, e viva, 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 auguri, 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 auguri. amona brindisi e te viva la viva 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 come non bisogna fare scalette mi raccomando vero controlliamo me sto violino è buona è buona andrea attenzione l'assaggio perché sezione massaggio ufficiale tensione ecco si sta in benzina ecco imbenzinato quasi imbenzinato quasi imbenzinato eccolo via il voto via il voto è partito subito in quattro trattore questo landini sfumero al vino sfumero al vino metteci un po di vino ma dove mettecelo quando mai ci sono venuti no che c'è il regalo pandreone ma questo gli piace ti piace come sto campanello vai vai andrea vai 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 come scampare scampare siamo alla seconda bottiglia di montefalco attenzione attenzione rosso di montefalco trinchella 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 ogni tanto guarda che spettacolo ai cappelletti più buoni di tutto ragazzi guardate che spettacolo ai cappelletti che bei cappelletti fatti a mano buoni come sto bene buoni 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 è fatto il rotto e poi hai detto scusate che si è contento si hai tocca trovare la ragazza voi ci sto sperando che non la trovo mai noi stiamo cercando una ragazza auto munita auto munita che faccio te per quello che so oh bravo che sei uno spettacolo mi piace da te andrea? la mia è rasata un po' più dove? dove? non va bene un mezzo un mezzo? non va bene secondo te o no va bene? o no? molto rasata va bene? no no com'è o no? eh? com'è o no? o no? com'è? io chiedo un po' com'è tu mi sei piaciuto il monte e vinto solo il piante scampanellata si si ma è le tue vai siamo al padrone armato eh oggi com'è com'è? ssss 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 che st PA c'è il VAR eh? ssss ssss sig masters ssss e il VAR scampare sss ssss sssss sssh ssss dai 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 Che fai? Che fai? Non mi scordi, non mi fai mai Nooo Filipe! Grande! Dai dai, campionato di campanello! Che spettacolo! La situazione sta un po' degenerando eh Però in bene, perché questo è star bene e essere allegri Stare bene con la gente che ci vuole veramente bene Oh bravo, ma adesso che ci vorrebbe? Che ci vorrebbe? Alla fine Non ti lascerei mai Dimmi chi sei L'oreo di miei Grande amore 1, 2, 3 Viva gli sposi! Quello staglio! Viva gli sposi! 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 Adesso, Taz, sta perciò! Anche il dolce Vai Vai giù Che gozzone Oh Campanello Ancora una volta Per l'ennesima volta e per sempre Auguri E viva gli spazi E viva gli spazi No Che c'è? No C'è il baro Davanti alla basilica Davanti alla basilica Davanti alla basilica Bene ti vai Bene ti vai Bene Salute 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 Alla sant'è di Don S'il vous plait Oh yeah De cavaliere 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 L'altro decà è per il signore Per il signore Ti piaciuta questa giornata? E' bello E' bello Avervi lasciato qualcosa Spero che Comunque Sia stata anche una bellissima sorpresa per i nonni E niente Adesso mi rilasso un pochino Vado a bere una cosina perché Voglio un attimo Di Mi godo il weekend finalmente Quindi ci sentiamo più tardi Ciao ragazzi